Oggi vi presento il libro illustrato Il Senza Coda, storia di una bambina fifona, mostri impossibili e gatti straordinari, di Loredana Lipperini, illustrazione di Stefano Tambellini, edite da Salani Editore. Tutti abbiamo paura di qualcosa, c'è chi ha paura del buio, chi dei fantasmi o del temporale, e poi c'è Ari, che ha paura di tutto. I suoi sogni sono infestati da mostri a dir poco strani, chi mai si farebbe intimidire da un ragno rosa con la pipa o da un serpente con in testa un barattolo. Eppure ogni mattina Ari è sempre più pallida e il cuscino sempre più bagnato di lacrime. Anche i mostri, bisogna ammetterlo, non hanno vita facile. Spaventare Ari tutte le notti è stancante e loro hanno decisamente bisogno di una vacanza. Ma, come Ari presto capirà, le paure dei sogni sono speciali e per scacciarle serve qualcosa di altrettanto speciale. Qualcosa come un gatto. Un gatto senza coda, per la precisione. Insieme a lui, Ari attraverserà le terre dei sogni fino a trovarsi al cospetto di un'antichissima banda di felini, con il potere di salvare gli umani dagli incubi più terribili. E grazie all'aiuto delle amiche di sempre e del fantasma di una signorina d'altri tempi, scoprirà tutto il suo coraggio. Divertente e vibrante come le vibrisse di un gatto, un'avventura sospesa tra sogno e realtà che aspetta solo di acciambellarsi sulle nostre gambe per non lasciarci più. Questo libro è Il Senza Coda, storia di una bambina fifona, mostri impossibili e gatti straordinari. Di Loredana Liperini, con illustrazione di Stefano Tambellini, edito da Salani.